estate 2022 a torre del greco sono in molti quelli che scelgono il mare nostrum per le vacanze estive viaggio di tv siti tra gli stabilimenti balneari per raccogliere commenti ed opinioni dei cittadini come state rascorrendo questo inizio estate meraviglioso l'idola scala è una cosa fantastica accoglienza al 100 per cento ragazzi bravissimi e il mare quest'anno bellissimo ecco anche rispetto agli altri anni come trova il mare pulito il mare pulito perché io vengo verso le otto e un quarto appunto per vedere il mare pulito ma adesso fine verso le undici è ancora pulitissimo parlando anche di turismo si aspetta qualcosa dalla parte del comune o di chi di dovere per aumentare l'afflusso di turismo che attorno è sì l'unica cosa che mi aspetto sono i depuratori perché non funzionano ancora diciamo la verità depuratori a torre del greco ci vogliono ecco ma anche come attrattiva qui a torre del greco per attirare i turisti a per attirare i turisti ok c'è la litoranea che funziona funziona mi hanno detto che funziona eppure qua signora lei è con le sue nipoti qui al mare come altro che loro finisce la scuola vengono a mare dite vi piace sì cosa ti piace quando viene a mare l'acqua la trovi pulita sì noi veniamo presto di mattina e quindi l'acqua è sempre pulita signora come trova lei il mare in questo periodo in questo momento poiché veniamo alle otto e mezza alle nove l'acqua è sempre pulita verso mezzogiorno poi comincia a sposcarsi sinceramente parla qui averla portata di mano è un beneficio perché per le bambine ci vuole il mare ci vuole ecco signora questo mare così come adesso è anche un'attrattiva per i turisti che vengono da fuori allora attualmente sì i turisti potrebbero benissimo venire perché io penso che meglio di dell'acqua pulita e del mare non c'è niente sta iniziando una nuova estate a torre del greco come la state vivendo è con molta calma finalmente si sembra un po di preoccupazione insomma per questa pandemia però almeno per i bimbi per loro veniamo a mare il mare solo torre del greco è sempre bello ecco come trova appunto il mare qui a torre del greco rispetto anche agli altri anni no ci sono giornate che effettivamente l'acqua è sporca però sono fatti c'è ancora giornate di pioggia c'è da mettere questo e comunque tutta l'immondizia scende sempre nel mare quando fanno queste giornate brutte però quando le giornate belle oggi non ci possiamo lamentare da effettivamente secondo lei da parte anche del di chi di dovere c'è qualcosa che si può fare per rendere il mare ancora più pulito e magari attraente per i turisti decisamente ebbe sul turismo possiamo parlare non lo sappiamo proprio sfruttare noi ci abbiamo lungomare porto banchina litorale non ci sta niente dovrebbero fare di tutto e di più ma pure per i cittadini non ci sta niente sti bambini dove li portiamo portare la sera non ci sta niente come stai trascorrendo questi inizi estate benissimo stiamo venendo a mare qua un paio di volte a settimana ci troviamo benissimo come stai trovando il mare in questi giorni no è pulito è pulito è tranquillo e si sta bene in molti si dichiarano soddisfatti per le spiagge il mare e l'accoglienza ma opinione comune che le risorse dovrebbero essere ulteriormente valorizzate perché come dicono i cittadini ai nostri microfoni torre del greco è una città che merita sta per iniziare la stagione estiva come vivrete questa stagione noi come sempre noi un paio d'ore al mattino veniamo qua a questa che io ho denominato kokum beach appunto perché qua viene molta gente anziana e vengono qua si comporta tutto come dei bambini quindi dal film kokum beach la spiaggia a torre del greco il mare come lo avete trovato in questi questi giorni più pulito delle altre volte devo dire che negli ultimi anni è migliorato molto la ballonabilità bellissima cosa si può fare per incentivare anche l'affluenza di turisti qui a torre non ne parliamo proprio questo è un discorso politico che non voglio affrontare dovrebbe essere l'amministrazione a farsi appunto garante di questa di questa cosa e cercare di portare più turisti però effettivamente c'è tanto da lavorare si dovrebbe un po impegnare di più l'amministrazione in questo senso perché è una città che merita abbiamo appunto questo bel mare abbiamo tante tante risorse però vanno valorizzate era fatto qualcosa di più i politici che abbiamo avuto negli anni con gli amministratori vadavano al loro interesse se va bene però al piccolo interesse immediato non pensavano al futuro non pensavano alla possibilità di sviluppare comunque questo territorio bellissimo centro del golfo di napoli non so se mi spiego per un futuro migliore impatto di turismo